Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, diverse le notizie tra cui la ripartenza delle scuole fra due giorni. Parleremo del piano trasporti di cui tanto si è discusso e che sembra pronto per questi primi giorni di scuola, ma parleremo molto anche di crisi energetica, di caro bollette, ci sono varie iniziative tra cui quella del teatro di Ferrara che spegne le luci di notte oppure ci sono delle attività economiche del territorio che stanno ripensando l'accaparamento energetico per rendere le proprie attività sempre più sostenibili, ma in questa edizione parleremo anche di politica e conosceremo altri candidati ferraresi che stanno correndo per le date del 25 settembre, ovvero il giorno delle elezioni che si terranno in tutta Italia. Ma apriamo appunto questa edizione con la riapertura delle scuole, mancano due giorni, nel ferrarese come in tutta Emilia Romagna è tutto pronto, sono cadute la maggior parte delle restrizioni dovute alla pandemia nelle scuole, anche il trasporto pubblico è pronto e si prevede un ritorno ai regimi del 2019, ovvero il periodo pre-covid. Riparte la scuola giovedì 15 settembre a Ferrara come in provincia e in tutta la regione e in prefettura nella città estense lunedì si sono riuniti i responsabili del trasporto pubblico locale, presenti la vicaria del prefetto Francesca Montesi, la dirigente scolastica provinciale Veronica Tommasselli, l'amministratore unico di AMI Antonio Fiorentini, il presidente della provincia di Ferrara Gianni Padovani e i rappresentanti dei comuni di Ferrara, Codigoro, Comacchio e di Tiper. Durante il periodo pandemico, grazie ai finanziamenti governativi regionali, era stato potenziato il parco mezzi, terminato però lo stato di emergenza, sarebbero caduti questi finanziamenti, ma comunque da quanto emerso dall'incontro dovrebbero essere garantiti i livelli del servizio di trasporto, ovvero numero di bus e di corse, i quali saranno come quelli preesistenti allo scoppio della pandemia, è stato detto. Non ci saranno ulteriori tagli al servizio come ventilato sulla stampa nei giorni scorsi, riporta una nota della prefettura, attenzione sarà dedicata ai primi giorni di ripresa delle lezioni, nei quali si potranno verificare assestamenti del servizio, dicono dalla prefettura, e anche sovraffollamenti a causa, dicono le aziende pubbliche di trasporto, dello stesso orario di uscita delle scuole e degli studenti nella prima fase dell'anno scolastico. Parliamo ora di Caro Bollette allo scoccare della mezzanotte scorsa, quella tra lunedì e martedì, il teatro comunale di Ferrara ha spento le luci e lo farà tutte le sere, si tratta di una scelta sostenuta dalla direzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione del Teatro Abbado, volta a dare un segnale dopo il grido d'allarme lanciato da Teatri e Cinema d'Italia, tra queste tante le attività che stanno soffrendo del caro Bollette, allora sentiamo il direttore artistico Marcello Corvino ieri sera a prima dello spegnimento. Da oggi a mezzanotte spegneremo le luci del teatro comunale di Ferrara per protestare contro una situazione senza precedenti che sembra averci portato a cento anni fa. Le lancette della storia sembrano essere ritornati indietro invece di andare avanti. Protestiamo contro una guerra insensata nel cuore dell'Europa, protestiamo contro chi sta speculando su questa situazione, aumentando a prezzi incredibili i costi delle spese energetiche di tutti noi e protestiamo perché questa situazione mette a repentaglio la vita di tanti teatri. Il teatro comunale di Ferrara è solido, ha un grande afflusso di pubblico, questa situazione non viene messa a repentaglio proprio grazie ai nostri abbonati, ai nostri spettatori, però affrontiamo, affronteremo una situazione economica difficile. Passiamo da Bollette per un totale di 160 mila Euro negli anni passati ai 320-340 attuali, quindi è una situazione di difficoltà e che stiamo gestendo nel modo migliore cercando di tagliare i consumi e in questo senso va anche la nostra decisione di spegnere le luci a mezzanotte, ma che sia un monito un po' per tutti, perché insieme si possa riportare le lancette della storia alla contemporaneità, ad un mondo civile fatto di pace, fatto di solidarietà e fatto anche di bellezza e cultura. E a proposito di energia, parliamo ora di 10 impianti biometano per alimentare due zuccherifici, quello di Binerbio nel Bolognese e quello di Ponte Longo in provincia di Padova, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2. È la prima filiera industriale del paese interamente agroenergetica e sarà realizzata dalla Confederazione dei Bieticoltori e da Copro B Italia Zuccheri. È un miglioramento del biogas, il risultato della sua raffinazione e purificazione, che è poi possibile mettere nella rete gas senza modificare gli impianti. Stiamo parlando del biometano, ultima frontiera del gas rinnovabile e che grazie al primo progetto di filiera industriale interamente agroenergetica coprirà i consumi di metano all'interno dell'industria saccarifera italiana, ovvero negli zuccherifici di Binerbio in provincia di Bologna e a Ponte Longo in provincia di Padova. Un progetto che sarà realizzato dalla Confederazione dei Bieticoltori italiani e da Copro B Italia Zuccheri. Questa cooperativa da sempre ha mirato a fare zucchero e a recuperare nel modo migliore tutti i residui della lavorazione dello zucchero. Le polpe per la zootecnia, le calci per l'emendante come terreno, il melasso per i lieviti. Dal 2010-2012 abbiamo iniziato a usare, grazie un progetto dell'Associazione Bieticole, le polpe per fare del biogas. Oggi c'è lo sviluppo nel biometano, quindi andremo a fare questo progetto con CGB di 10 biometano che utilizzeranno polpe di barbabietola ma anche deiezioni animali. Quindi un'economia circolare perfetta perché da queste polpe verrà estratto il metano e quello che rimarrà sarà il digestato che è un fertilizzante eccezionale organico che verrà dato ai terreni. Quindi sempre più un'economia circolare. Questo per sviluppare ulteriormente la bioticoltura in Italia, fare più zucchero ma fare anche energia. Fare 10 biometano vorrà dire per noi fare il 50% delle bioenergie che ci servono per fare lo zucchero. È l'evoluzione del nostro progetto originale. Il nostro progetto Biogas è nato nel 2010, aveva l'obiettivo proprio di trasformare le polpe suppressate in biogas per dare energia elettrica rinnovabile per integrare il prezzo delle bietole con il valore che si generava. Un progetto unico in Europa, una scommessa perché non vi erano altri esempi, che però è stato un esempio di successo, cioè i risultati sono andati ben oltre le aspettative e questo ha consentito di consolidare la coltivazione della barbabietola in questi 10 anni. Insieme agli sforzi che ha fatto la cooperativa per valorizzare lo zucchero, anche come commercialmente, nelle sue diverse frazioni e prodotti, ha consentito di salvare questo settore. Un progetto che prevede degli investimenti significativi che si svilupperanno nei prossimi tre anni. Sì, sono investimenti che prendono spunto dal PNRR. Il PNRR ha stanziato ingenti risorse per riconvertire gli attuali impianti biogas e operalizzarli di nuovi. Noi siamo il primo gruppo oggi in Italia per impianti realizzati, abbiamo risultato 23 impianti biogas da noi partecipati e abbiamo l'obiettivo di riconvertire parte di questi impianti, di cui tre di Copro B, e realizzarli di nuovi, proprio sfruttando i decreti e gli input, le misure del PNRR, che incentivano proprio la produzione di biometano, che non è biogas, è elettrico, ma è metano che va in rete. Proprio questo sarà uno dei temi al centro della nuova puntata di Con i piedi per terra oggi, non da domani sera su Telestense, alle 21.30. E torna a Ferrara, Remtech Expo, l'evento internazionale dedicato ai temi del rissanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori. La sedicesima edizione è presentata questa mattina a Roma, nella sede del Consiglio nazionale Geology, in programma a Ferrara Fiere dal 21 al 23 settembre. Non vuole essere soltanto un momento di approfondimento sullo stato attuale e di condivisione delle prospettive future, è stato detto, ma sarà soprattutto una rete di esperti di livello globale e un vero e proprio hub tecnologico ambientale che opera in forma permanente e il cui comparto pubblico e il privato hanno modo di confrontarsi e dialogare. Tutto questo è stato detto, è Remtech Expo. E andiamo adesso sulla costa, Comacchiese, dove dovrebbe essere tutto pronto per l'avvio dei lavori del maxiripascimento al via, il cantiere che interesserà 4 chilometri di litorale tra i lidi delle nazioni e di Pomposa. Siamo ovviamente alla fine della stagione estiva, quindi sta per partire questo progetto che dovrebbe essere del valore di oltre 6,7 milioni di euro programmati nell'intero 2022. Tutto pronto per l'avvio del maxiripascimento della costa che permetterà di rafforzare e arricchire i 4 chilometri di litorale compresi fra l'ido delle nazioni e l'ido Pomposa nel comune di Comacchio. Si tratta dei due tratti fra i più critici dell'intera riviera Comacchiese che saranno così rimpinguati a partire da inizio ottobre con quasi 142 mila metri cubi di sabbia, un intervento a cui si aggiunge al ripascimento manutentivo del lido di Volano che interesserà un altro chilometro di costa a cui sono destinati 80 mila metri cubi di materiale. I lavori, attesi soprattutto dagli operatori commerciali, faranno parte di un pacchetto di nove cantieri per oltre 6,7 milioni di euro programmati dalla regione Emilia Romagna nel corso del 2022. Il cantiere ribattezzato Progettone 4 partirà a inizio di ottobre e si concluderà entro il prossimo mese di maggio in concomitanza con l'inizio della stagione balneare. Elezioni politiche e continuiamo a conoscere i candidati ferrarese e sindaco di Vigarano Mainard dall'anno scorso. Davide Bergamini è il candidato della coalizione di centrodestra per la Lega Salvini Premier, le prossime elezioni politiche per la Camera. Noi lo abbiamo intervistato su alcuni temi legati alle principali sfide che il Paese è chiamato ad affrontare oggi e nel prossimo futuro. L'intervista integrale è presente sul sito di Telestense. Sindaco di Vigarano Mainarda dal 4 ottobre 2021 per una coalizione di centrodestra che per la prima volta si trova a guidare il comune ferrarese, Davide Bergamini è stato candidato dalla coalizione di centrodestra per la Lega Salvini Premier alle prossime elezioni politiche per la Camera dei Deputati ed è capolista nel collegio proporzionale di Ferrara, Ravenna, Rimini, Follì, Cesena. Diplomato alle scuole superiori, Bergamini, impenditore nel settore del commercio. Si dice grato a Matteo Salvini per la candidatura di cui si sente onorato e annuncia che in caso di vittoria elettorale non si dimetterà dalla carica di sindaco ma si dividerà fra Roma e Vigarano contando sull'aiuto anche delle tecnologie informatiche per essere incisivo in entrambi i ruoli. A Roma intende portare i bisogni dei territori e le loro specificità economico, sociali e culturali. In questo senso si impegna ad essere in contatto con i sindaci dei comuni che è chiamato a rappresentare. Andare a Roma, dice, sarà un'opportunità per Vigarano ma anche per l'intero territorio che potrà essere più vicino al governo e a tutti i comuni che rappresenterà nel collegio. La coalizione centrodestra nelle elezioni politiche del 2022 riunisce varie forze dell'area populista di destra, sovraniste e nazional conservatrice dello spettro politico italiano. A capo della coalizione vi sono Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Comprende quattro distinte formazioni politiche, Fratelli d'Italia, Lega per Salvini Premia, Forza Italia, noi moderati. E ora conosciamo la segretaria provinciale di Rifondazione Comunista, Stefania Soriani, che è candidata per l'Unione Popolare di Luigi De Magistris per l'Uninominale a Ferrara per la Camera dei Deputati, laureata in Lettere e Filosofia e Indirizzo di Storia Antica all'Università di Bologna. Attualmente insegna con passione nella scuola elementare. L'abbiamo intervistata come candidata ferrarese alle prossime elezioni politiche per i collegi di Ferrara. Anche in questa situazione potrete vedere l'intervista su telestenze.it. Segretaria provinciale di Rifondazione Comunista a Ferrara dal 2016, confermata nel 2021, anno in cui è stata eletta nel Comitato Nazionale di Rifondazione Comunista, Stefania Soriani è la candidata di Unione Popolare di Luigi De Magistris per l'Uninominale a Ferrara per la Camera dei Deputati. Lavorata in Lettere e Filosofia e Indirizzo di Storia Antica all'Università di Bologna, attualmente insegna e con passione aggiunge nella scuola elementare, ma ha svolto per più di 15 anni prima di entrare nella scuola a tempo pieno la professione di archeologa, collaborando sul campo numerosi scavi di interesse archeologico e storico della nostra città e dell'intero territorio. Questa attività le ha fatto sviluppare competenze specifiche sia nell'ambito sociale che in quello della conservazione dei beni culturali. Si occupa da anni di politica senza averne mai fatto una professione. Oggi si presenta come candidata alla Camera di Unione Popolare, la lista che ha come capo politico l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Unicalista, dice Soriani, per la giustizia sociale e ambientale contro la gente draghi e contro la guerra. È stata impegnata nel movimento femminista di non una di meno di Ferrara e in altri movimenti cittadini sensibili alle tematiche dell'inclusione e della interculturalità. È da sempre, dice dalla parte degli sfruttati dei soggetti ritenuti più fragili. In una società, aggiunge, che tende ad escluderli e ad eriderli con atti di bullismo inaccettabili, che lei contrasta quotidianamente come educatrice e come donna della politica. E si svolgerà giovedì pomeriggio al centro sociale Il Parco in Biacanapa a Ferrara. A partire dalle ore 18 l'incontro dell'associazione Agevolando di Ferrara, dal titolo Insieme verso il futuro, un evento aperto al pubblico che vuole sensibilizzare la cittadinanza alle attività finalizzate ad accompagnare a un'autonomia reale o significativa quei ragazzi che a 18 anni escono da un percorso di tutela fuori dalle famiglie di origine. L'associazione Agevolando DV nata nel 2010 è la prima in Italia creata da giovani che hanno trascorso parte della loro infanzia e adolescenza fuori famiglia. Agevolando vuole esserci. Perché il futuro sia una storia ancora tutta da scrivere, come si legge nel sito dell'associazione? Perché desidera un mondo nel quale i ragazzi e le ragazze care liver, letteralmente significa che lasciano un percorso di cura, abbiano l'opportunità di scegliere da protagonisti il loro viaggio verso l'autonomia. Pensare di dover essere totalmente autonomi a 18 anni è difficile per tutti. La maggior ragione per chi ha vissuto parte della propria infanzia e adolescenza fuori famiglia, ossia in affido familiare, in casa famiglia o in comunità per minorenni. Agevolando vuole esserci perché il futuro sia una storia ancora tutta da scrivere. Ma adesso sentiamo le testimonianze di alcuni ragazzi care leaders. Per disegnare la fragilità non userei neanche un foglio, perché se dovessi usare un foglio lo userei accartocciato, stropicciato, rovinato, ingiallito, sgualcito, che se ci soffi sopra diventa sabbia e vola via. Vogliamo semplicemente essere ascoltati e messi sullo stesso piano di importanza che venga capito che quello che diciamo non sono parole di ragazzi poverini che hanno vissuto fuori famiglia, ma di persone con una competenza e che vogliono portare i miglioramenti nel sistema in cui hanno vissuto. Sarebbe facile avere un futuro se c'è i bambini e i papini con la mano, dai su, dai su. Invece no. Non dico di darci un futuro, però semplificarci le cose. E parliamo di una serata di beneficenza all'insegna di comicità e musica, quella intitolata Vivi anche per me in programma per sabato 24 settembre alle ore 21 in Sala Estense. Se l'iniziativa è stata presentata oggi in municipio, il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla cooperativa I frutti dell'albero, nata di recente per dare supporto alle famiglie di ragazze e ragazzi con disabilità e per realizzare progetti educativi. E ora parliamo di eventi dalla giornata europea della cultura ebraica che vede capofila proprio la città di Ferrara con la festa del libro ebraico all'appuntamento con Interno Verde, con oltre 50 giardini privati da scoprire e visitare fino a arrivare a inizio ottobre internazionale. Tanti quindi gli eventi in programma a partire da questa settimana in città. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla cultura del comune di Ferrara, Marco Gullinelli. Il mese di settembre a Ferrara come da tradizione, ma anche quest'anno confermata è l'appuntamento con tantissimi eventi anche culturali. Sì, direi di sì, anche se diciamo che non c'è mai stata pausa. È stata un'estate molto importante dal punto di vista culturale, che ha visto comunque il ritorno di moltissimi turisti e questo ci riempie di gioia proprio per quell'indirizzo del ritornare, insomma, non solo fare cultura in maniera diffusa, ma anche proprio chiamare più persone a quel famoso detto dello stare insieme che ci manca da un po'. Quindi bene, settembre con Interno Verde, è un evento straordinario. Ci sarà un altro momento dedicato alla giornata europea delle comunità ebraiche, cosa importantissima. Ferrara è la comunità ebraica capofila e quindi ci saranno tre giorni di approfondimento. Tutti e due gli eventi, anche se sono distanti come tipologia, in realtà fondono su un sostantivo maschile l'elemento importante che è il dialogo. L'andamento, diciamo, tra virgolette, ordinario delle mostre, che ancora sono ovviamente aperte, come in Castello, Palazzo Schifanoia. Questo poi arriverà ad Internazionale, che è un appuntamento assolutamente importante, proprio per quella dimensione del parlare, del conoscere. Mai come in questo momento abbiamo la necessità di condividere, di approfondire, in modo da trovare un equilibrio interiore che in qualche modo si allinei con le nostre coscienze. Questa sera alle ore 22 su Telestense torna l'appuntamento con processo al Gran Premio condotto in studio da Veronique Blasi con i commenti dei suoi ospiti al Gran Premio d'Italia che si è corso domenica scorsa a Monza. Verstappen ha vinto, anche questa volta battuta una generosa Ferrari con Leclerc secondo sul terzo gradino del podio. Russell che ha preceduto l'altro ferrarista Sainz, quarto dopo una rimonta strepitosa. Gara terminata, lo sanno ormai tutti, con la Safety Car che ha provocato fischi di disapprovazione dalle tribune. Il Mondiale poi tornerà il 2 ottobre a Singapore, quindi tutto questo è processo al Gran Premio questa sera in onda su Telestense alle ore 22. A me non resta che ringraziarvi intanto e augurarvi una buona serata. Grazie a tutti.